Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò degli acquisti che ho fatto in vista della mia partenza in Germania, che vi ho annunciato nello scorso video. In realtà non vi farò vedere i vestiti che ho acquistato perché non sono quel tipo di persona, ma vi farò vedere gli acquisti magari più relativi appunto alla mia esperienza di viaggio e che potrebbero tornarmi utili anche una volta in Germania. Cominciamo subito con la prima cosa che in realtà non posso farvi effettivamente vedere perché è la cosa con cui sto registrando questo video, ovvero il mio nuovo cellulare, il Samsung S7. Io arrivavo da un, sempre Samsung, ma un S5, in questo caso con l'S7 riuscirò a fare dei video migliori, in particolare appunto quelli statici in casa, ho una qualità della fotocamera migliore, quindi riesco a portarvi comunque dei video migliori, ma fatti semplicemente con il cellulare senza complicarmi la vita con fotocamere, videocamere, GoPro eccetera. Li avrò direttamente dal cellulare. Continuando a parlare di foto e video, la seconda cosa che ho acquistato è questa, la vedete dentro la sua scatolina, ed è un filtro polarizzatore della Newer per appunto la mia Canon 700D. È da un po' che ce l'ho la Canon e non ho mai acquistato nessun accessorio, nemmeno degli obiettivi che vadano a sostituire l'obiettivo kit. Quindi ho pensato di fare un piccolo investimento e appunto vedete il filtro polarizzatore che va un pochino a cambiare la luce che entra dall'obiettivo, che è utile soprattutto in giornate particolarmente soleggiate. Vi ricordo comunque che in descrizione trovate il link ad Amazon di tutti gli oggetti che ho qui sotto, peraltro li ho comprati tutti da lì, quindi se volete darmi un'occhiata per vedere un pochino meglio le specifiche andate a dare un'occhiata appunto in descrizione e trovate direttamente il link che vi porta ad Amazon. Terzo oggetto è un'indispensabile per chi viaggia e mancava nel mio kit da viaggiatrice ed è questa, la bilancia per pesare le valigie. Leggerissima, presa peraltro in sconto e molto spesso in sconto quindi magari dateci comunque un'occhiata. Appunto inserite la valigia e chiudete la cinghia in questo modo e poi sollevando andate a pesare. C'è anche ovviamente lo schermino digitale, ve lo accendo e vi faccio vedere. Adesso ovviamente segna zero ma se andate semplicemente un pochino a tirare segnerà, appunto vi andrà a segnare i chili o nel caso potete comunque spostarvi penso anche sulle libre o eccetera. Adesso lo spengo. Quarto oggetto è un indispensabile per tutti i lettori che amano anche viaggiare ed è l'ebook reader. Io ho preso questo che è un Kobo, l'ho preferito al Kindle per il semplice motivo che mi sono iscritta anche alla libreria digitale, la Media Library Online tramite appunto la mia biblioteca e quando l'ho fatto mi hanno detto non prenderti il Kindle perché supporta solo determinati tipi di formati e non l'e-pub con cui puoi scaricarti appunto gratuitamente e prendere tra virgolette in prestito i libri su questa Media Library, su questa appunto biblioteca digitale e quindi avresti una scelta molto ristretta di libri rispetto se prendi un altro e-reader che appunto supporta il formato e-pub. Quindi questo è semplicemente il motivo per cui ho preso il Kobo al posto del Kindle. Non penso che faccia una grossa differenza, per me la discriminante è stata proprio questa che vi ho spiegato. Con l'arrivo del Kobo è arrivato ovviamente l'ennesimo cavetto di ricarica, quindi ho deciso di prendere questo che si chiama Procase, è disponibile in vari colori, io ho scelto questo perché mi sembrava un pochino più in linea con quello che piace a me. Vi faccio vedere come all'interno ci sono già alcuni oggetti, alcuni cavetti, avete due tasche con retina, una chiavetta e altre cosine, qui avete un po' di elastici in cui infilare i cavetti, qui appunto ne vedete alcuni e qui ci sono delle retine se avete qualche cavetto un pochino più sottile. Qui avete delle tasche, io ci ho infilato l'adattatore da presa a muro a USB e qui avete un'altra tasca con cerniera, questa volta è unica e non divisa in due come queste qui. Io lo trovo molto comodo, se dovete andare in giro appunto in viaggio e avete bisogno di tanti cavi di ricarica eccetera, questo qui è davvero un ottimo acquisto, peraltro potete anche non metterci dentro dei cavi ma magari pensavo magari a prodotti di make up, qualche matita, pennelli eccetera che magari vuole farvi tra virgolette il vostro set personale da soli. Bene questi erano i miei cinque acquisti da viaggiatrice per appunto il mio viaggio in Germania che durerà un po' di mesi, quindi appunto avete visto quello che mi sono procurata nell'ultimo periodo appunto per poterlo affrontare al meglio. Spero quindi che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici che magari sono interessati a questo genere di video. Se anche voi avete questi oggetti o se volete avere qualche chiarimento sugli oggetti che ho acquistato lasciate un commento qui sotto e fatemi qualche domanda o datemi qualche suggerimento. Sempre qui sotto ma in descrizione trovate i link a tutti i miei social in cui seguire in diretta la mia avventura in Germania. Se non siete iscritti iscrivetevi e magari attivate anche la campanella così riceverete ogni volta che carico un video una notifica, in realtà è una settimana non vi riempirò di notifiche, giuro. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, add a nice life! Ciao! Ciao!